oggi giornata tranquilla sui mercati azionari abbiamo molti praticamente invariati indici invariati nasdaq in questo momento segna 0 0 8 mentre il dax chiuso con un meno 0 0 5 siamo ai prefissi telefonici però in settimana ci sarà volatilità ci sarà volatilità lo sappiamo non perché c'è la palla di cristallo che ce lo dice ma ce lo dice il vix oggi più 4 e 25 e anche il v stocks anche se più contenuto più 1 e 7 quindi ci sono gli indicatori di volatilità che si stanno muovendo verso l'alto già da un paio di giorni il che è strano è strano perché gli indici sono lì a pochi tic dai massimi quindi è strano vedere gli indicatori di volatilità ripartire verso l'alto nulla di che però il terzo giorno di rialzo per il vix ci potrebbe essere volatilità quindi perché abbiamo i dati sull'inflazione quindi è questo che probabilmente in questo momento temono gli operatori e corrono a coprirsi con le opzioni facendo appunto muovere questi indicatori di preoccupazione no abbiamo sempre detto il vix l'indice della paura possiamo parlare di paura quando il vix supera livelli di 20 25 di però quando si comporta come ha fatto nelle ultime settimane quindi senza secondare i movimenti a rialzo dell'indice con nuovi minimi cioè la volatilità dovrebbe andare giù quando l'indice sale invece questo non è successo è un indice di preoccupazione ecco quindi in questo momento siamo in questo abbiamo i dati come abbiamo detto sull'inflazione che sono molto importanti perché in base a questi poi probabilmente ci saranno delle ripercussioni sui rendimenti dei titoli di stato e sui cambi vedremo poi anche l'euro dollaro che come abbiamo visto l'altra volta è in una fase di debolezza che continua con un possibile target in area 1 e 14 comunque lo vedremo poi più avanti in settimana aspettiamo prima l'uscita di questi dati e vediamo come si comporteranno appunto i mercati gli indici vi dicevo invariati e questi scarsi movimenti con scarsi volumi stanno configurando dal punto di vista candlestick delle figure abbastanza deboli questo è un tristar lo evidenziato con il rettangolino giallo che se opportunamente chiuso nei prossimi giorni con delle espansioni verso il basso segnerà un top quindi siamo in una fase importante perché ora questa fase di congestione subito sopra le resistenze di area 16.000 o viene superata verso l'alto vi ricordo che il dax volendo potrebbe avere un suo target a 16 350 perché è un livello tecnico che è stato raggiunto dagli indici americani ma non dal dax il dax è ancora pochissimo sopra i massimi precedenti i massimi dell'anno ricordo che già nel mese di giugno eravamo a 15 8 quindi circa l'un per cento di distanza dai livelli attuali quindi ci mette un attimo a rientrare al di sotto dei vecchi dei vecchi massimi quindi questi sono dei dei livelli critici perché ancora non è stato consolidato il passaggio di 16.000 questo per il dax vediamo le sp 500 più 0 13 qui le star non sono tre ma sono due e sono anche dei quasi dei dogetti quindi sono tutte figure di indecisione di perdita di spinta guardate le candele precedenti quando hai una gialla quando la mattina dalla mattina alla sera diciamo c'è un flusso abbastanza regolare di acquisti l'abbiamo visto sul dax no soprattutto nelle prime ore delle giornate della giornata il dax ce l'aveva le candele gialle dalle 9 alle 11 quindi queste sono candele di espansione dove c'è convinzione da parte di chi di chi compra poi a un certo punto cominciano queste candelette di indecisione a volte è temporanea e quindi il trend riprende a volte possono segnare dei massimi qui siamo in una situazione di stretch dato appunto dal fatto che comunque una gamba rialzista che si è prolungata per parecchio tempo cosa succede succede che dopo un po di giorni che il mercato sale nessuno ancora ha preso profitti sono tutti lì con lo loro bravo stop loss messo sul minimo del giorno prima di due giorni prima poi scattano tutti assieme ci sono i candeloni no si formano così famosi candeloni neri i dark cloud quindi più tempo passa più il rischio aumenta infatti vedete che calano i volumi perché diminuisce anche la propensione degli operatori a prendere ad aprire posizioni in questa zona dove appunto ci sono meno riferimenti tecnici questo quando il mercato è tecnico quindi stiamo facendo un discorso puramente tecnico poi è chiaro ci sono motivi fondamentali per comprare per salire quello compra e sale non guarda in faccia nessuno con cui facciamo discorsi tecnici quindi al di là di quello che può accadere quindi dei fattori esterni va bene direi sull'equity torniamo poi nei prossimi giorni passerei alle richieste perché ne avevamo in arretrato dalla settimana scorsa in particolare c'era richieste su due titoli che sono sì del settore farmaceutico ma sono anche quelli che di più hanno anche risentito della situazione vaccini no io passerei però la scala settimanale per cominciare a vedere innanzitutto merc merc di recente con la famosa pillola antivirale vedete inizia iniziato un periodo di alta volatilità dove la vediamo la vediamo dalla dimensione delle candele guardate si vede a occhio no la dimensione media delle candele nei periodi precedenti la notizia e poi quando è venuta fuori la notizia della approvazione di questo farmaco è cominciata la volatilità quindi ampie escursioni verso l'alto ma anche verso il basso quella della settimana scorsa non è stato un gran segnale devo dire da un punto di vista tecnico è stato toccato il target tecnico di 2.618 del diciamo di questa figura di inversione questa figura di accumulazione no che rotta rialzo qui con questa candela con volumi molto forti il 27 settembre ha dato origine a un impulso che aveva come obiettivo tecnico 95 livello è stato raggiunto la settimana scorsa però da lì è stato respinto con violenza quindi questo dal punto di vista tecnico non è un bellissimo segnale e quindi direi all'amico di tenere d'occhio 78 perché il livello sotto il quale questo segnale tecnico del 25 settembre verrebbe annullato fino a quel momento però diciamo i presupposti soprattutto se dovesse calare la volatilità che possa riprendere questa tendenza verso l'alto ci sono e comunque visto che 90 è stato già raggiunto ci sta che nel momento in cui questi supporti attuali in area 78 80 dovessero tenere possa riprendere in movimento di nuovo verso l'alto però tutti questi titoli coinvolti nel settore vaccini farmaci pandemia e hanno comunque subiscono anche questi andamenti esterni sono i titoli questo ne avevamo parlato già all'epoca fine 2020 quando venono fuori le notizie appunto sulla Pfizer moderna noi primi vaccini approvati cominciò la volatilità su questi titoli però vedete come c'è volatilità verso l'alto e anche verso il basso quindi lo vedremo poi nel caso di fa ma anche moderna moderna ecco questo è fine novembre Pfizer è stata la stessa cosa spike verso l'alto poi questi livelli non sono stati più superati fino a maggio giugno ok c'è stata molta volatilità molti saliscendi 100 175 fino a 100 già nel mese di dicembre quindi subito dopo l'annuncio sono 30 40 punti percentuali non è poco è la stessa la stessa cosa sta avvenendo comunque anche in questo periodo sì siamo passati da 200 a 400 ma da 400 stiamo tornando al 200 quindi sono titoli dove appunto esce fuori la notizia il farmaco approvato il vaccino funziona si fa la terza dose quindi quel giorno lì più 10 meno 10 diventa un otto volante quindi c'è molto noise si chiama in gergo tecnico molto rumore quindi diventa più difficile anche analizzarli ecco questo moderna in particolare vedete come esplosa la volatilità da luglio in poi siamo in una fascia di supporto anche per moderna comunque interessante che rimanga sopra 190 ecco perché 190 era la vecchia linea di resistenza che al di sotto della quale tutta questa struttura verrebbe compromessa Pfizer ecco il discorso che vi facevo prima fine 2020 guardate lo spike il tra novembre e dicembre dopodiché profonda correzione e i massimi poi ha ricominciato a farli soltanto a luglio quindi che ha comprato sulla notizia è rimasto bloccato per diversi mesi quindi non quando vi dico sempre attenzione a inseguire perché non sempre poi quando viene fuori la notizia in realtà da lì parte un trend molto spesso invece il contrario cioè comprano sui rumor e vendono sulle sulla notizia molta volatilità anche su Pfizer la settimana scorsa un'espansione verso l'alto molto violenta però si sono rivisti i venditori questo livello di 50 vi dico subito che è critico da un punto di vista tecnico abbiamo avuto dei rifiuti importanti e anche questo spike di volumi della settimana scorsa proprio quando siamo arrivati a 50 non è un grande segnale tecnico ecco quindi direi che siamo su dei livelli di resistenza che devono essere ancora lavorati quindi direi più probabile dal punto di vista tecnico un trading range 40 50 per Pfizer alla fine il titolo che forse è risultato un po più regolare è stato AstraZeneca che ha avuto il vaccino l'anno scorso impallinato dalle polemiche a inizio soprattutto quando ci furono tutte le polemiche appunto relative agli effetti collaterali però alla fine il titolo AstraZeneca quindi come vedete non è neanche inseguendo la notizia andando a indovinare che questo farà peggio questo farà meglio questo vado short quello vado long perché poi in realtà può accadere di tutto Johnson & Johnson chiudiamo questa era un'altra richiesta però anche Johnson & Johnson alla fine essendo un titolo coinvolto nel nel mondo vaccini però comunque Johnson & Johnson è un'azienda molto più diversificata e interessante dal punto di vista tecnico il fatto che sia venuta a testare la parte bassa di questo canale di regressione che è in atto da fine 2019 e che lo ha inglobato molto bene vedete quante volte andato a testare la parte bassa ma anche la parte alta e adesso dalla parte bassa non riesce a rimbalzare quello che ha fatto nelle ultime settimane guardate le code di queste candele delle ultime quattro settimane una resistenza in area 168 molto importante che dove avrebbe dovuto essere superata con una maggiore facilità quindi qui direi all'amico attenzione ad area 160 perché questo potrebbe configurarsi se dovesse continuare così come un flag ribassista di un primo impulso che viene venuto giù a scendere a partire dal mese di agosto quindi se è un flag e c'è un movimento di continuazione potrebbe a quel punto aprirsi la strada al test di 150 verso l'alto è chiaro questo l'ho appena detto questo 165 la resistenza da tenere d'occhio per dare il via a un allungo verso la parte alta del canale chiudiamo con nexi che in una situazione simile nel senso che sta attestando questa parte bassa del canale di regressione del suo canale di regressione che veramente diverso rispetto all'altro però anche nexi lo ha delineato tanta tanta volatilità per questi titoli che quindi non sono facili non sono sicuramente facili da gestire questo è un livello importante che potrebbe essere di accumulazione però guardate come l'hammer della settimana scorsa che potrebbe essere un hammer se questa settimana non i prezzi non andassero al di sotto della sua base potrebbe essere una figura di inversione di quanto meno di breve è un hammer importante perché comunque è avvenuto con volumi forti quindi qui sono entrati i compratori perché 14 2 un'area di supporto che ha fatto già da supporto in passato i compratori c'erano e mi sembra che ci siano ancora anche se oggi meno 3 per cento quindi ora si è volatile però occhio alla base di questo hammer soprattutto alla fine di questa settimana questa candeletta qui non fa testo perché siamo ovviamente ancora inizio settimana quindi è una candeletta incompleta siamo su un grafico un grafico settimanale verso l'alto interessante perché c'è spazio il canale ancora in atto fino a prova contraria e soprattutto fino a quando la volatilità stop line non cambierà colore va bene siamo già a 15 minuti di video continuate a seguire questa settimana perché avremo avremo sviluppi secondo me avremo sviluppi perché i dati sull'inflazione sono molto attesi e quindi continuate a seguire su entrambi i canali sia su trading view che su youtube vi ringrazio come sempre dell'attenzione e del supporto che date a tutti e due i canali con i vostri commenti i vostri like vi do appuntamento domani grazie per l'attenzione buona serata a tutti